Passa il suo servizio, va nella zona di conflitto tra Zavronaco e Goi e poi il mani auto efficace per Monza. Chiama in causa l'UAT il muro di Trento, ancora Monza che cerca di rigiocarla e lo fa alla grande con Kurek che picchia duro sul muro di casa. Siamo a cercare ancora la zona di conflitto l'Isinat, poi Kurek, gran palla sulla linea di fondo. Calligaro per Kurek, palla bassa, ci prova Grebennikov, non ci arriva. Poi proprio Vettori chiamato in causa, copre il palleggiatore Goi in bagger per Kurek che ci va giù pesante. A cercare l'UAT Calligaro per Kurek, palla in diagonale. L'attacco di Russell, la copertura di Calligaro, la free ball che arriva direttamente nella metà campo di Trento. L'Isinat e poi Kurek che è più bravo del servo ad approfittarne. Zavronac tiene vivo, poi Kurek. Sì, eccolo qua in azione, va a cercare la zona di conflitto tra il Neon e l'UAT. Poi l'attacco di Kurek, palla in campo, dice il direttore di gara. Calligaro all'intietro per Kurek, il ritardo è il muro e il Sebul non può fare nulla.